ciao a tutti in questo video andremo a parlare di pirateria informatica se ad esempio siete state vittime di pirateria come il furto d'identità o ad esempio il phishing che è un fenomeno molto in aumento negli ultimi anni e che tramite l'invio in grande quantità di email ingannevoli da parte di questi ignoti truffatori e che va a spingere le vittime a fornire volontariamente le informazioni personali l'obiettivo naturalmente è di rubare l'identità a questi soggetti e che può essere realizzato anche attraverso software malevoli come malware trojan spyware questo metodo è destinato ad essere sempre più utilizzato dai pirati informatici quindi infatti il tentativo di forzare se ad esempio provano a tentare di forzare un sistema centrale che contiene i dati di migliaia di utenti è un compito un po più difficile per la stragrande maggioranza dei pirati informatici quindi risulta molto più semplice attaccare singoli clienti singoli utenti ad esempio come il servizio di internet banking che è il vero anello debole della sicurezza delle transazioni questo per un duplice motivo innanzitutto le tecnologie utilizzate rendono molto più semplice nascondere le proprie tracce quindi evitare di essere rintracciati in secondo luogo gli utenti ad esempio nella stragrande maggioranza non sempre possiedono le capacità necessarie per proteggersi da attacchi neanche andare a riconoscerli qualora si presentassero solitamente queste frodi traggono origine dall'invio di email ad un certo elevato numero di destinatari tecnica che viene denominata spamming avrete già sicuramente sentito e sono commuffati in maniera da fingere di essere provenienti da istituti bancari conosciuti naturalmente quindi tali messaggi possono segnalare all'utente ad esempio presunti problemi tecnici sul server dell'istituto o magari in soliti tentativi di accesso al conto piuttosto che procedure di aggiornamento dei server quindi a fronte di tali allarmanti segnalazioni l'utente viene generalmente indotto a fornire i propri codici identificativi e operativi quindi andando ad accedere ai link che viene fornito non solo via mail ma l'invito all'azione si possono ricevere anche via sms anche perché nella maggior parte dei casi è spesso condotta anche con toni molto minacciosi allarmando gli utenti circa il rischio del blocco del conto corrente i siti web a cui viene indirizzato l'utente raccoglie le informazioni riservate il fisher praticamente il pirata avrebbe poi successivamente la possibilità di spacciarsi per la vittima per trasferire fondi oppure andare ad acquistare merci e via dicendo quindi va sicuramente a infliggere molti ma molti danni che poi in molti casi questi pirati non solo possono andare a rovinarvi economicamente ma può andare a rivendere le informazioni ottenute illegalmente sul mercato secondario quindi questi criminali prendono parte a diversi forum di mediazione online canali chat in cui queste informazioni vengono acquistate e vendute un altro metodo adottato dai pirati consiste nel creare pagine web dedicate a finti prodotti quindi vanno ad ottenere queste pagine indicizzate nei motori di ricerca aspettando che gli utenti vanno inserire i propri dati tutte le informazioni riservate queste pagine offrono dei prodotti a un prezzo estremamente vantaggioso vanno anche qui a raccogliere tutte le informazioni che riguardano gli utenti per poi andare a piratarli ora potrebbe essere difficile imparare a individuare tentativi di phishing il meglio che si può fare per proteggerci senza entrare in uno stato paranoico è quello di rimanere vigili ed evitare di rivelare dati personali online e bisogna essere vigili anche su allegati come file testo archivi e persino immagini anche perché possono contenere malware in grado di iniettarsi nel vostro dispositivo e prendere i vostri dati con la forza quindi c'è da fare molta attenzione a queste truffe e se è possibile impedire il caricamento automatico dei messaggi nelle caselle di posta elettronica meglio ancora usare un gateway email sicuro con una manutenzione regolare di filtri contro spam e malware se avete qualcosa da compilare invece di fare clic sul collegamento allegato è meglio visitare il sito manualmente i siti web falsi spesso somigliano a quelli veri ma se si accede a un sito manualmente almeno si è sicuri di visitare quello reale e tutto ciò potrebbe impedire le truffe di phishing o almeno alcune di esse bene prima di finire volevo farvi conoscere questo sito che è veramente straordinario funziona come un database si presenta così ma in inglese ma possiamo sempre tradurlo in italiano dicevo che funziona come un database praticamente qui in basso ci elenca tutti i siti da dove vengono trappelati i dati da dove vengono rubati i dati praticamente e vediamo che tra i quali c'è facebook se andiamo a cliccare su facebook vediamo che nell'aprile del 2021 è stato reso disponibile gratuitamente il download per un set di dati di oltre 500 milioni di persone secondo me sono anche molte di più praticamente i dati che vanno a rubare sono il numero di telefono al sesso indirizzi email posizione data di nascita dato l'ora di lavoro chi più ne ha più ne mette e qui vediamo che nemmeno facebook è sicuro naturalmente gli aggiornamenti per il 2022 saranno disponibili a breve qui poi in basso questi dati che noi mettiamo a disposizione ormai sono in giro in rete e possono essere venduti da un ente a un'altra in più questo sito una cosa molto interessante se noi vogliamo controllare tutte le email che abbiamo a cui magari siamo iscritti a tanti siti possiamo andare a digitare ad esempio la una mail qualunque e andare a cliccare su pound ed e da qui vediamo che ci dice che abbiamo in effetti sono quattro violazioni dei dati se andiamo scorriamo verso il basso vediamo i siti che hanno preso i dati di questa mail ci dice praticamente quali email abbiamo a rischio dove possiamo intervenire quindi direi che è veramente un sito molto molto interessante la stessa cosa possiamo fare anche per i numeri di telefono io ora non vado a farlo del numero di telefono però potete quindi visitare il sito e provare voi stessi bene devo dire che è un sito veramente molto molto interessante quindi se avete problemi a qualche mail o continuano ad arrivarvi spam da molti siti e volete liberarvene da qui potete capire quali siti vanno a prendere i vostri dati dopodiché poter intervenire in un secondo momento e in più qui ci dice di andare i consigli che ci va a dare nel senso andare ad attivare i tre passaggi di sicurezza e via dicendo ma lì poi sta a voi fare queste scelte devo dire che è veramente molto interessante in quanto possiamo andare a controllare tutti i nostri contatti dalle mail ai numeri di telefono per capire se tramite questi contatti possono andare a quindi invadere la nostra privacy bene ragazzi siamo arrivati alla conclusione spero che il video sia stato utile è un bel like se lo è stato e vi invito a scrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti e alla prossima ciao grazie a tutti